Salve a tutti e benvenuti in questo vlog in bici Oggi è mercoledì 4 agosto e sono le 15.10 Ho visto scorsa vacanza in Italia per gli settesimi episodi Era un giro in bici al serale, però era qualcosa di più particolare Cioè vi dico io che adesso ho fatto solo un vlog in bici così Siamo in vacanza, vacanza estiva Quindi diciamo perché non ho fatto vacanza in Italia adesso Perché sto facendo qualcosa di normale che faccio di solito Cioè andare a fare un giro in bici Adesso vi parlo pure del mio film, i bambos, da 2021 Perciò poi se facciamo qualche vacanza, qualcosa di più particolare Allora sì, ritorniamo a vacanza in Italia Però per adesso vi seguo cose normali da fare, cose che faccio di solito Come per esempio girare in bici qua vicino Oppure parlare ogni tanto così Allora metto come vlog video informazioni, sì Innanzitutto giriamoci qua dietro Perché abbiamo i palloncini, guardate qua I palloncini di 17 anni, guardate 17 anni c'è abbiamo i palloncini Sì, sto ancora con me, guardate qua Siamo con me del 31 luglio 17 anni Questo qua l'avevo caricato il 27 luglio dalle 16.02 a 17.41 su YouTube Era visibile il 27 luglio dalle 16.03 Cioè circa le 21.23 Invece è uscita la sua risoluzione massima Il 14.04 il 28 luglio 2021 Alle 15.16 circa Ho acceso pure l'aria condizionata dietro di me A messa a 24 gradi, che fuori ce ne stanno 35 Adesso Volevo parlare un po' del mio film Ivan Wads tra pretendesi di 2021 Allora innanzitutto iniziamo dal trailer Ivan Bozza della Parennesi 2021 Trailer Anzitutto queste scene del trailer Le ho registrate dal 3 novembre Al 9 novembre 2020 E l'avevo caricato Il 19 novembre 2020 come vedete Eh si ho un po' Andato nella pineta Ho girato qua, quello che faccio di saluto A stare qua davanti, come sto adesso Come sto adesso qua Come sempre Non c'è parte delle volte Poi ho passato avanti Un po' dei giri in bici Delle riprese a mare Vedete Vedete Questo Vedete questa storia di questo trailer Qua, questo l'avevo raccontato Inizio film, vedete, sentite che inizia Così, e leggo tutto questo che c'è scritto qua Tutto questo lo leggo nel trailer C'è scritto Tipologia di film, azione Documentario C'è scritto sopra che c'era il 31 luglio 21 31 luglio 2021 21 e 10 Che è già passata, si è riuscito E' stato fantastico Proprio programmato E' perfetto Si, registrato con Samsung Galaxy S7G A50 Ok Azione documentario Solo che mo' Se andiamo a vedere questo mio film Ivan Voza 3 Paranese 2021 Qua sulla B Vedete Ivan Voza 2021 Ivana Ivano E Ivana E Ivana Ivano E Ivan I tre personaggi di questo film C'è tutto da me Non mi ha aiutato nessuno No, ora venne, ho fatto solo io tutto Tutto recitato da me Tutto editing da me Ho fatto tutto io Vabbè, non tutto proprio da solo Ringrazio Sick Matt per il freestyle Ivan Voza E Paco per i suoi tre bit Sono anche aiutato a me stesso Prendendomi dei video Già registrati Dal mio canale YouTube Ivan Voza Questo andiamo a vedere qua sotto C'è una storia molto lunga Qua non c'è perché dura troppo Vedete Ehm Qua avete visto C'è scritto Azione documentario Solo che poi Non è più Azione documentario Ma bensì Ci abbiamo Musicale e Commedia Esatto Così è venuta Poi qua ci ho messo Tutti questi timestamps Che escono di qua Vedete Sono bello questi timestamps So che Mi hanno aiutato pure alcuni A fare questo Ivan Voza freestyle Dove Vedete Qua c'erano un po' di Via Vasi Piore Questo è Ivano E io sto parlando Io Ivan Sto parlando con Ivano Un personaggio Vedete Questo sono io Che sto un po' parlando Allora Mo' Mo' viene il poliziotto Un cattivo poliziotto Però è bravo comunque Sembra interpretato Questa è una pistola plastica Di plastica finta Vedete Ce l'abbiamo qua Questa è la pistola Che ho usato per fare Vedete È plastica Tutta plastica Cioè pure è rotta Guardate Tiene una cosa qua Tipo sparava palline Però è pure rotta Vedete Perché ci abbiamo più Ah i miei occhielli da vista Ecco vedete Questi qua sono i miei occhielli da vista Che li metto qua Questi si attaccano all'endit Eccolo qua Questi qua Poliziotto Polizia Perché ci abbiamo più Guardate le manette Ci abbiamo Vedete Queste sono le manette Che si aprono qua Ando Puff Queste sono le manette Vedete Con le chiavi Che si infirano qua Per aprirle Vedete E si aprono Si aprono Si Però vedete Qua Quali sono le manette Infatti Eccolo là Vedete Queste qua Sono le manette Che ho utilizzato Per fare il suo film Eccolo là Quella le ha messe Ivana Queste Lo sapete Me le sono messe Dato Vabbè Mi ha dovuto aiutare Qualcuno Per mettere Ma me l'ho caduta Queste sono Dalle scene Pabbi Che facevo a mare Queste che esco Sempre con questa bici Non la voglio mai cambiare Mi piace sempre Questa qua E ci sta facendo Sempre dei giri in bici Mada immaginate Con questa bici Che qua Giretti a Trentinara Capaccio Paese Madonna Ehm Quasi 1500 km Ah boom Sono belle Location Qua Il fiume Capo di fiume Il mare E oggi Ti voglio presentare Una mia amica Come si chiama Questa tua amica Ivana Ivana Si Ivana Me la ricordo A memoria Questa Quando parlavo Vicino a casa tua E poi c'è Di conoscere Tivana E dimmi Da dove vieni Vengo da casa tua Da casa mia Però devo dire Che in certe parti Del film Mo sono ritornato indietro Perché più avanti Sapevo che cosa fare Ma se ritornavi indietro Non sapevo cosa fare Mi riprendevo così A casa Tipo facendo Cos'e strano Così Pure guardando Un po' Per la finestra Non sapevo Dovevo fare qualcosa Per registrare Delle scene Per proseguire Con il film Se non registravo Niente Non facevo niente Poi più avanti C'è avuto parecchio Da fare Vedete Qua che guidavo A 5 centelle E qua che guidavo Dove la multipla Madonna Che guide che facevo La questa multipla Certe volte Ecco Pure Certi editing Che eravamo arrivati qua Poi subito scoppiava Il beat E cambiava scene Bello Qua invece Ho preso Alcuni ricordi Da settembre Ottobre 2020 Vedete che ero Era un po' Più Ecco Fino estate Qua avevo preso Un po' Dei miei Timelapse Che avevo Già caricato Su youtube Quindi questo È già registrato Non è che l'ho Fatta apposta Io ho pensato Di fare tutte le scene Apposta Di registrarla Per me Però Visto che c'è Una di queste scene È bello Veramente Vi ricordate Pure a Trentinara Qua Velocissimo Sto timelapse L'ho velocizzata Molto di più Questo si L'ho preso Da youtube Perché non è che Poi ci poteva andare Un'altra volta Solo per fare Questo film Quindi ho preso Qua Mi è piaciuto Molto Come è venuto Vedete Questo è il Compa l'anno Di mio fratello Di 18 anni Ma Così sarà pure Per me L'anno prossimo Anche anch'io Comperò 18 anni Sicuro sarà diverso Però comprerò 18 anni Questa invece Era la mezzanotte Di venerdì 31 luglio 2020 Avevo compiuto 16 anni Ecco qua Avevo festeggiato Con la torta Invece quest'anno È già 17 Questi sono tutti I festeggiamenti Compio 17 anni I festeggiamenti Speciale Compa l'anno 2021 Era sabato 31 luglio 2021 Compriamo 17 anni Dai che questo È il mio ultimo Anno da minorenne L'anno prossimo Sarà maggiorenne Poi era Era il 31 luglio Cioè Il giorno del mio Comperanno Ma facevo finta Invece qua Era il 23 luglio Non era il giorno Del mio Comperanno Facevo finta Perché ovviamente L'ho finito il 23 luglio Questo film Non il 31 Il 31 Stavamo già festeggiare E quindi Hanno fatto finta Che il 31 luglio Stavamo festeggiando E dicevo Quello è il mio Compleanno Poi mi ero svegliato E ho capito Che era tutto un sogno Ed era finito così Ivano Ivana Soprattutto Ivana Era strana Guardate qua Che faccio L'ho fatto io apposta Così strana Guardate Cioè Rennaro di in casa Tutta strana Questa è Ivana Facciamo finta Che sia Una Una versione Di me Femmina Ed ecco qua Subito erano svaniti Perché quello Era solo Faceva una parte Solo di un sogno Quei maglioncini L'avevo solo lasciati Quindi facevo finta Che tutto questo Era solo un sogno E quelli Erano personaggi Non erano veri Quei personaggi Sentite il finale Di questo film Questo è bello Mi è piaciuto molto Questo finale E' l'ora Di andare A trascorre momenti Della vita reale Di andare a festeggiare Questo mio comporano Di 17 anni Di finire l'estate E aspettando Per l'anno prossimo Di 18 anni Di prendermi la patente Di continuare a giocare A Binge Drive Quello che mi piace Pericchio E di prendermi la patente Di vedere la macchina E di trascorrere più tempo Fuori All'aperta E non di sognare più Guardate Guardate qua E finisce così Questo qua Il film E' il film E' il film Ma comunque Vi devo leggere La storia Perché si trova Nel commento Qua sotto Però c'è un momento Del film Guardate Che C'è questa vista Qua Questa vista Come se fosse qualcosa Di speciale Particolare Qualcosa di Così Qualche effetto O qualcosa Così Ma vi spiego Come ho fatto Allora Tutta questa Cerchia Qua Si vede zoomata E cos'è Un cannocchiale Un binocolo E un binocolo E un binocolo Questo binocolo Qua ho usato Per fare Aspettate Che muo Vi faccio vedere Vedete Qua Tiene l'esterno Arangione Vedete che Tiene l'esterno Arangione Di questo binocolo Infatti Perché vedete Si vede bene Pure sulla luna Questo è senza Lo zoom Della telecamera Vedete Vedete con lo zoom Come si vede Molto meglio Ancora più ingrandito La luna Si vede Bene Ecco qua Ecco qua Si vede bello Ingrandito Qua Si è fatto Promo cos'era E vedete qua Questo Tiene l'esterno Arangione Perché io stavo Registrando Con la fotocamera Della 50 Qua Sulla lente Perciò Si vedeva così Che si vedeva Il riflesso La mia faccia Qua Poi vedete Ah Qua l'ho fatto così Guardate Vedete che si vede Questo effetto Qua da vicino Vedete Poi ho allontanato Il binocolo Così ho allontanato Vedete Si capisce Che è quello che è il binocolo E stavo ancora Registrando Guardate Se mi metto qua Per esempio È troppo vicino Vedete È troppo vicino Quindi adesso Andiamo a vedere Un po' fuori Come si vede Vedete Da lontano Si vede Bene bene Per esempio Guardiamo là fuori Con il binocolo Mettiamo La lente qua vicina Se la metto così Si vede Ecco Vedete Si vede Rimpicciolito Invece se la metto Al contrario Come è normale Che si deve mettere Vediamo bello ingrandito Ci vuole un po' di tempo E pazienza Per metterlo Però una volta messa Si vede proprio ingrandito Guardate qua Si vede un effetto Particolare speciale Andone è bello Mi piace come si vede qua Tutto verde qua Eh ci vuole un poco Perché bisogna mettere Pure con l'autofocus Vedete E si vede lontano Guardate invece Se leviamo il binocolo Quando è lontano Quella parte La buona Questo 80 euro Questo binocolo Mi ricordo che avevamo pagato 4-5 anni fa Buono dai Si Qual è la marca Breaker si chiama Ottico Un modello Ottico Zoom Vedete Qua le manette Le manette sono molto più realistici Della pistola Questo è sicuro Questo è il telecomando Dell'aria condizionata Però adesso Prima di andare a farci Questo giro in bici Devo leggere Questa storia del film Questo era il trailer 19 novembre 2020 Questo è il film 31 luglio 2021 Scorriamo sotto Scorriamo sotto Grazie per i bei commenti Che scrivono qua Leggi tutto Adesso dobbiamo andare a leggere Questa storia qua Perché ho visto che alcuni di voi Non lo so Che si scosce Non lo vogliono leggere Va bene Adesso la leggiamo insieme Ok ragazzi Perché la storia del trailer L'ho narrato nel film Ed era molto più corta di questo Quindi adesso me lo vado a leggere adesso Mi chiamo Ivan Bozza Ho 17 anni Sono andato il 31 luglio 2004 Un giorno mi sveglio E sembra che le cose vadano in modo diverso Tutto ad un tratto i giorni Passano molto più velocemente Mi sento sempre ripreso Gioco a Benji Drive E dopo un po' mi vado ad uscire fuori Vedo un bel tramonto Rientro in casa Subito aggiorno Sera Ceniamo I successivi giorni Anzi mesi Durante questi Non avevo saputo cosa fare Mi guardavo intorno C'era qualcosa di strano Mi sentivo sempre osservato E stranamente apprezzato E gradito Settimane dopo Mi stufo di tutto questo Decido di fare lunghi giri in bici 40 km in 4 ore In pianura E fine in montagna 5 ore Di nuovo a casa Tutta quella fatica Di giri lunghi in bici Lentissime e lontani Finalmente mi riposo Per poi ritornare a fare Di giri in bici Ma rimanendo vicino Brevi giri I giorni passano ancora Questa volta però Mi viene da fare Balletti strani E di cantare un po' Inizio a ricordarmi Della mia carriera Su Youtube Che invece Solo una passione Inizio a dire Questo è quello Che mi fa passare il tempo Che negli scorsi anni Era vago Svago Maggio 2021 Vendiamo la Fiat Multipla L'Yama WR 125X Succede però Che a fine mese Dopo questi fatti Non conosco Ma mi compare Uno di nome Ivano Lui mi ha iniziato A salutare E dirmi come sto Io rispondo Tutto bene Ivano Neanche me ne ho accorto E avevo pronunciato Il suo nome Che neanche conoscevo Avevo pensato Che mi sembrava Di conoscerlo già Somigliava a me Iniziò a parlare Di questi ultimi fatti Io che gli domandassi Che ne sapeva lui Ma in fondo Non me ne portava Neanche a me E ci ha parlato Trascorremo Dei giorni insieme Tra PC Fissa E quello portate Le avevamo preso Quest'ultimo Restando fuori All'aria aperta Come voleva lui Sembrava che Se stesse troppo Dembalchiuso Gli mancava l'aria Un giorno L'avevo fatto Accommodare In casa E mi sembrava Un po' titubante E stranamente scondroso La porta si aprì Bruscamente Ero un poliziotto Che anche lui Assomigliava a me Disse che doveva Arrestare Ivano Dopo questo Ivano mi sembrava Un delinquente Ma quando il poliziotto Disse che era andato A 200 km orari Di una zona A 50 km orari Di limite di velocità Mi sembrava Una sciocchezza Restò una notte Intere in prigione Il giorno successivo Si sape meglio Della caduta Ivano Gia era andato Veramente a 200 km orari Su una bici Veramente speciale Nel deserto Seguite da una scia Di una macchina Molto veloce E quindi lo rilasciarono Allora capì Che era una persona speciale Quindi divenne Mio amico Visto che il mare Ce l'abbiamo vicino A 5 km da casa Ogni tanto Un bel giro in bici Ci faccio A metà giugno Ivano mi aveva Fatto conoscere Una sua amica Ivana Eppure questa Mi assomigliava Quasi sembrava Che ci avevo ballato E subito Tutti e tre in casa C'era qualcun altro in casa Era un agente Delle FBI Ma che conoscevamo già Perché era il poliziotto Divenuto quest'ultimo Disse che ci stava Giusto controllando Ivano Gli disse Comprensibile Buona giornata A un certo punto Una rabbia mi venne Da sfogarmi subito Sarà perché volevo Stare più tempo Con Ivano In un futuro presente Uno simulo di balletti E saltelli Per la casa Fino a fuori Mi assalè In tutto il corpo Degli scatti Con conseguente sciacquata Del viso Dal sudore Mi perbanne Con futuro uscita In bicicletta Correranno a casa Fresco Con l'aria condizionata Il tramonto fuori Il giorno dopo Chiesi Ivano Ivana Se saranno ricordati Del balletto Con gli spettatori E loro sì Saranno ricordati E allora di nuovo Su e giù Per la casa Dal letto A ballare In maniera scatenata Tutti e tre Con un presentatore Elegante Che guarda caso Ovviamente Mi assomigliava Giro con la nostra Fiat Panda Tra le marce E le stradine Tramonti Luna piena Tra le nuvole E parecchi ricordi Di tempi ormai passati Dall'estate del 2017 A quella del 2020 Fino ad alcune guide Giretti con la multiple E la Panda Fino alla nostra Macchina nuova La Fiat 500 L Cross I fantastici Timelapse Che avevo registrato Davanti casa E quando ero andato In bici Poi i 18 anni Di mio fratello Francesco Il 25 settembre 2020 E il mio compleanno Dei 16 anni Il 31 luglio 2020 Ma dopo tutto Il giorno Che stavamo aspettando È arrivato Il 31 luglio 2021 Mi ritrovai sdraiato Ma non ti ricordi I 16 anni L'anno scorso E poi quello Dei 17 di questo giorno Ma era io Che ce l'avevo Quelle foto Le avevo rimaste aperte Mi ero svegliato Non stavo più sognando È l'ora di andare Trascorrere i momenti Della vita reale Di andare a festeggiare Questo mio compleanno Di 17 anni Di finire l'estate Aspettando per l'anno prossimo Di 18 anni Di prendermi la patente Di continuare a giocare A binge drive Quello che mi piace parecchio E di prendermi la patente Di guidare la macchina E di riscorrere più tempo fuori All'aperto E non di sognare più E poi ci scrive Ho dovuto scrivere Questa storia qua Perché non c'entrava Nella descrizione E quindi lo scrive In questo commento qua Alcune musiche Che sono copyright Eh sì Perché alla fine Avevo cercato l'oppressione Invece comunque Ce l'avevano Vabbè Lasciate stare così Tante Andiamo a monitorizzare Ok Quasi tutto è stato registrato Con il Samsung Galaxy A50 Le uniche volte Che ho registrato Con le setteggio Erano alcuni ricordi Registrati Dall'estate Del 2017 A 2019 L'action cam C'e anche questa c'è Presto dei video Registrate Dai timelapse Di giri in bici Tutto editato Con KineMaster Pro Pk Questa è la maggior parte Sì è vero Solo un tentativo Ecco è piaciuto Che ore si sono fatte Si sono fatte Le 15.56 Adesso le manderei Veramente in bici Questo è un bel film Che ho fatto Mi piaciuto La storia Aveva parecchio lunga Adesso l'ho narrata È vero Questa è la storia Di questo film È vero Che la maggior parte Cioè È vero Che la maggior parte Delle volte Un tentativo Ho fatto tutti quei balletti Quelle scene Solo qualche volta È veramente capitato Molto raramente Che ho dovuto ripetere Perché avevo sbagliato qualcosa Piaciuto parecchio Come è andata Cioè Però è una cosa incredibile Come Io ero qua E avevo recitato Questo finale Come se l'avessi già scritta Invece no Stavo tutto qua Ad inventarmi della mente Ad accacciarmi le parole Fuori dalla mente Non avevo recitato Proprio niente Già niente davanti Tutto è stato inventato Mi vedeva tutto In un momento E Quello che mi veniva L'andava a fare Non avevo preparato niente Non avevo recitato niente Tutto a voce Tutto a mano Ok sto partendo Sono le 16.54 Ho pensato di fare Questi trailer e film Ogni anno Però potete Lasciamo stare Perché ci vuole più tempo Per fare i vlog Meglio Essere libero Per fare più vlog Migliore Per fare più oltre quella strada che porta al mare ma io devo girare più avanti guardate che mare, c'è nuvoloso c'è vento sono arrivato a 489 video me ne mancano solo 11 e poi arriva a 500 video e voglio arrivare prima di settembre sono ritornato a casa, siamo 18.01 quindi spero che questo video vi sia piaciuto non dimenticatevi mentre vi piace il canale grazie per questo video e noi ci vediamo al prossimo video